La mia moglie è Rosalia, 12 anni di matrimonio e questa infine è Angela, figlia di Calogiora e Fifibe e quindi mia cugina Carlina. In fondo sono un tipo interessante, fine, intelligente. Fifibe, ma tu mi vuoi veramente bene. Ma si capisce che ti voglio bene. Ah, e quanto Fifibe, quanto, quanto? Articolo 587 del codice penale. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira, determinato dall'offesa recata all'onor suo della famiglia e punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Chiunque cagiona la morte del coniuge, del coniuge, del coniuge, del coniuge, del coniuge, del coniuge.